eccoci qua buongiorno buongiorno ragazzi ciao a tutti siamo in diretta penso di sì qua ci conferma la diretta perfetto streamer datemi buongiorno vedo che non c'è ancora nessuno collegato adesso piano piano aspettiamo siamo con qualche minuto di anticipo ci siamo collegati qui in diretta perché al momento parte il nostro bot quindi aspettiamo che si colleghi un po di gente ok vedo che abbiamo già rolando ciao roland buongiorno datemi per favore un riscontrino se si sente se si vede bene tutto a posto qualora mi vedeste un po scattoso ricordatevi di abbassare la qualità qua sotto c'è la possibilità di abbassare la qualità del video ok vedo che ci sta eccola ciao tanto buongiorno eccolo rolando grandissimo grazie per il feedback ok perfetto siamo ragazzi miei al secondo nostro appuntamento in questo orario pausa pranzo in questo orario nuovo da dove ci ascoltate quando ci ascoltate come ci ascoltate ok perfetto intanto se vedete che gli occhi vanno in giro per l'altro monitor sto controllando un pochino che la diretta stia funzionando leggevo stamattina che qualcuno ci ci ascolta durante la passeggiata quotidiana ci ci segue sul telefonino mentre va in giro diteci un pochino se ci ascoltate eccolo ciao tom se ci ascoltate in diretta se ci ascoltate in streaming come riuscite a seguirle queste nostre dirette ditevelo qua nei commenti che siamo siamo curiosi di avere un vostro un vostro un vostro feedback da questo punto di vista ok allora ragazzi io intanto vi anticipo un attimino l'argomento di oggi che senz'altro avete già visto qua nella nel titolo del nostro post e soprattutto nel calendario sapete che abbiamo calendario con tutti gli appuntamenti di delle nostre dirette ecco tematiche oggi vi anticipo un argomento che secondo me è molto interessante perché perché è una domanda che bene o male tutti fanno prima o poi nel senso che come voi sapete probabilmente tanti lo sanno tanti altri magari sono nuovi faccio un piccolo recap noi durante il abbiamo una serie di servizi una serie di pacchetti diciamo e uno dei pacchetti più richiesti è proprio quello che prevede che le aziende si facciano seguire in un percorso che varia da tre a sei mesi un anno esistono varie modalità in cui tutte le settimane seguiamo con delle consulenze one to one l'azienda ed aiutiamo a sviluppare il proprio programma il proprio progetto di marketing efficace no quindi io sono uno dei coach che segue diverse aziende e quindi bene o male sto notando nel tempo che una domanda in realtà è sempre più ricorrente tendenzialmente e soprattutto è una domanda che fanno che fanno tutti prima o poi argomento di oggi molto light da pausa pranzo sì esatto ve l'ho detto ve l'ho scritto prima non sarò eccessivamente nerd nerdico oggi quindi sarà sì esatto così mi potete ascoltare anche pranzando anche mangiando un'insalatina cioè l'argomento di oggi sarà esattamente come andare a fare un tipo di analisi della nostra potenziale audience diversa dalla classica analisi demografica del nostro pubblico ok o meglio la toccheremo in breve ma poi ci come dire ci si evolverà il discorso per affrontare l'analisi demografica scusate psicografica perché è quella che in realtà ci permette veramente di scegliere tra virgolette come leggete quassù nel nel titolo del post di scegliere il giusto pubblico attraverso cui a cui puoi andare a proporre i nostri prodotti i nostri servizi ok allora intanto fatemi vedere se si è collegata un po di gel eccoci qui perfetto benissimo siamo una ventina in questo momento ma io se siete d'accordo partirei buongiorno dall'isola d'elba federica ah beh buongiorno sì gran posto quello lì ciao rocco perfetto scusate che tanto dono chiata un po di commenti vediamo se c'è se ci sono volti conosciuti ragazzi fatemi vedere volti conosciuti non riesco a caricarvi tutti i commenti quindi se non sto leggendo qualcuno vi leggerò dopo eventualmente ok allora partiamo subito cosa dite let's go andiamo con il nostro condivisione schermo eccoci qui ok dovreste vedermi anche con lo schermo perfetto sempre con qualche secondo di ritardo in diretta live però nessun problema partiamo dunque come sapete anche con le persone che 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 abbiamo il percorso insomma a me piace moltissimo partire sempre quando affrontiamo un nuovo argomento come dire contestualizzandolo all'interno di questa mappa a nove step perché mi piace partire sempre da questo da questo approccio fondamentalmente da questa panoramica iniziale ma perché io per primo nel momento in cui vado ad elaborare strategie vado a comunque a lavorare sul marketing di un cliente ritengo che sia sempre importante tenermi a monitor questa mappa qua perché vado a rendermi immediatamente colpo in maniera visiva su quale fascia su quale livello del marketing sto lavorando in quel momento lì ok questa qui è per chi non l'avesse mai vista la mappa a nove step che di fatto riassume tutto il nostro approccio al marketing ok e si evolve chiaramente nei vari passaggi partendo da un posizionamento iniziale fino ad arrivare insomma a ottenere dei lead a fare delle call commerciali a vendere il nostro prodotto il nostro servizio e poi analizzare il QPI per poter poi ottimizzare di nuovo tutto il processo oggi ci concentriamo sul primo punto che vedete giù in basso il posizionamento non perché ragazzi io oggi vi voglia parlare di posizionamento assolutamente non è quello il mio intento anche perché se scorrete e ve lo consiglio vi consiglio di farlo se scorrete il in basso qua sotto a questo gruppo c'è una meravigliosa diretta di michele con marco de vega ci sono concentrati esattamente su quello quindi posizionamento potete sicuramente andare a vedere degli elementi molto utili su questo argomento in quella diretta di non mi concentro in toto sul concetto di posizionamento oggi ma mi voglio concentrare per più su uno dei tre elementi che compongono una come di come degli ingredienti una adeguata analisi e strutturazione del posizionamento della nostra attività ok attenzione posizionamento o micro posizionamento perché scontato dirlo non possiamo pretendere specialmente se abbiamo una moltitudine di prodotti e di servizi che si rivolgono ad una quantità molto ampia di potenziali clienti non possiamo pretendere di proporci a livello indifferenziato il mio prodotto il mio servizio va bene per tutti perché sappiamo bene che quando un qualche cosa è adatta a tutti e metto delle virgolette non è veramente adatta per nessuno nessuno la percepisce veramente come adatta per sé d'accordo di conseguenza c'è la necessità di andare a micro posizionare i nostri prodotti nei confronti di specifici target per poi poter andare a creare dei dei percorsi di comunicazione dei percorsi di marketing dei funnel che parlino esattamente a quel micro posizionamento lì d'accordo quindi se l'analisi del posizionamento del micro posizionamento prevede questi tre ingredienti che vedete ora monitor ok noi oggi ci concentreremo soltanto su il cliente ideale va bene questo qui è il nostro focus oggi e come poterlo andare a definire ok un po meglio vi ho preparato anche un paio di tool che mi interessa mostrarvi perché sempre senza essere troppo nerd ma secondo me sono eccezionali per fare esattamente questo lavoro nei suoi vari livelli d'accordo ok dunque parlando di identificazione del cliente ideale la possiamo realizzare fondamentalmente in su due livelli come vi anticipavo in principio durante questa live su un livello demografico e su un livello psicografico ok la volontà di analizzare il cliente a livello demografico aiuta moltissimo ad iniziare a disegnare ad iniziare a configurare un avatar perfetto un cliente ideale perfetto ok molte volte la domanda a questo punto è ma da dove parto il mio consiglio tante volte è sempre quello di considerare di pensare a quale situazione con un cliente in passato ci sia mai capitata e che ci abbia fatto dire a cavoli fossero tutti come lui fossero tutti come lei sai che bel lavorare ecco questo qui è un ottimo punto di partenza per iniziare ad esercitarsi per iniziare a lavorare nello sviluppare un cliente perfetto un avatar perfetto ok ma addirittura noi quando sviluppiamo un cliente ideale gli diamo addirittura un nome ci stampiamo una fotografia cioè se abbiamo una fotografia di quella persona passata perfetto e ce la tacchiamo in ufficio ma andrebbe benissimo una foto scaricata da internet il concetto è proprio andare a visualizzare questa persona d'accordo in tutte quelle che sono le sue caratteristiche demografiche anzitutto vedete la lista degli elementi che è utile iniziare a considerare in questa fase quindi genere uomo o de donna quanti anni ha dove vive in qualche lavoro fa in quale azienda lavora ok dove opera quali sono i suoi interessi i suoi valori gli obiettivi quindi andare a considerare tutti questi elementi è un punto di partenza ottimo la cosa importante già in fase preliminare proprio concettuale prima ancora di aprire il computer ragazzi questo lavoro qui possiamo iniziare a farlo è importante cercare di essere il più specifici possibile perché perché questo aiuterà a comprendere fondamentalmente come potrete comunicare con lui e con lei provate a pensare è molto più facile immaginare una conversazione immaginare uno scambio con una persona che conosciamo piuttosto che con una persona che non abbiamo mai visto perché perché abbiamo una quantità di informazioni su di lui d'accordo o su di lei e questo evidentemente viene da sé che è impossibile farlo nel momento in cui ragioniamo in termini di marketing su un nostro pubblico indifferenziato d'accordo o generico invece nel momento in cui noi abbiamo chiaramente la faccia e le esigenze e il modo di comportarsi di questa persona viene da sé che è molto 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 più semplice dialogare con lui e anche dialogare in maniera più efficace in maniera più incisiva d'accordo sapremo davvero che cosa ha bisogno questa persona sapremo avremo fondamentalmente un parametro ben definito sul quale iniziare a impostare il nostro microposizionamento detto ai soldoni ok attenzione piccolo disclaimer in questa fase il cliente ideale non deve per forza coincidere con il consumatore finale del nostro prodotto o del servizio il nostro cliente ideale potrebbe essere il decision maker che interviene nell'acquistare il nostro prodotto o servizio l'esempio più banale più scontato che vi potrei fare in questo momento è se la mia azienda vende prodotti per bambini neonati viene da sé che il cliente evidentemente sarà il bambino o perlomeno l'utilizzatore finale sarà il bambino del mio prodotto ma il cliente ok non sarà mai il bambino per cui attenzione sempre a ragionare con a ragione veduta diciamo su su chi è veramente la persona che prende la decisione d'acquisto se vendo prodotti aziendali nell'ambito it non è necessario che sia il l'imprenditore a acquistare il mio prodotto il mio servizio magari l'imprenditore o il consiglio di amministrazione sarà l'entità che metterà la firma per poter deliberare il budget d'accordo ma io non dovrò dialogare con il consiglio di amministrazione o con l'imprenditore ma dovrò dialogare con l'it manager che avrà determinati punti di sensibilità che avrà determinate esigenze manifeste latenti questo ancora non lo sappiamo ma attenzione a poller il focus su l'avatar il cliente ideale giusto perché se sbagliamo questo abbiamo a cascata una quantità di problemi scontati ma di certo non irrilevanti anzi analisi demografica perché vi ho detto questa cosa nel contesto attenzione nel contesto di un piccolo speech un piccolo intervento dedicato all'analisi psicografica perché tutto questo cappello ci tenevo a farlo per mostrarvi e qui so che qualcuno tra chi mi sta guardando sarà molto contento di vedere questo strumento volevo mostrarvi volevo alzarmi la palla per scusate ho fatto casino con la condivisione qui ok dovreste vedermi alzarmi la palla per mostrarvi l'audience insight che è uno strumento di facebook ok è uno strumento che abbiamo che ci dà il business manager di facebook ok lo trovate tranquillamente googlando audience insights e con le vostre credenziali di accesso al business manager accedete a questo a questo strumento altrimenti lo cercate internamente al business il concetto qual è ci permette questo strumento di andare ad impostare una serie di parametri che noi abbiamo definito in partenza nella nostra analisi demografica e andare a comprendere in prima battuta le dimensioni del pubblico a cui stiamo pensando di iniziare a rivolgersi ok in prima battuta ho detto adesso vi mostro un attimino il funzionamento in soldoni ok allora adesso facciamo l'ipotesi di fare un eccoci qui di fare un di dover lanciare un nuovo servizio e uso un esempio reale ok di una cliente che sto seguendo da ormai da un bel po da quasi un anno di dover lanciare un nuovo servizio immaginiamo home food delivery ok quindi di fatto nuovo servizio di consegna cibo a casa a domicilio visto il periodo evidentemente è un tema caldo visto non come semplice cibo a domicilio pronto ma un cibo a domicilio che di fatto permette all'utente al cliente finale di cucinare o perlomeno di ultimare la preparazione di questi piatti per poi poterli cucinare quindi fondamentalmente essere chef per una sera in casa propria e diventare e mangiare comunque un ottimo piatto di pesce perché qui ci stiamo rivolgendo a una micro ok a un micro segmento da questo punto di vista ok quindi abbiamo definito il nostro cliente ideale con questa esigenza abbiamo dato un po di parametri demografici per definire questo cliente ideale perfetto fin qua ci siamo che cosa faccio semplicissimo ragazzi comincio ad andare a compilarmi i miei dati quindi dove vive questa persona dire a milano ok questa persona è uomo o è donna capiamola nel senso che indifferenziato sì potenzialmente sì perché il decision maker in questo caso può essere sia l'uno che l'altro indifferente non è scontato non tenere in considerazione il genere in questo caso nel senso che io potrei voler creare delle ads molto specifiche che pagano all'uomo quindi cucina come uno chef per sorprendere ok quindi di fatto potremmo anche qui andare a giocare nel capire meglio nel analizzare sempre meglio il nostro target per creare delle ad sempre più precise d'accordo adesso poniamo il caso che a me non gli interessi valutare questa cosa ok quindi vado scusate vado ad aggiungere un range d'età perché ho definito che il mio cliente ideale si trova in questa fascia d'età vedete che facebook qui mi dà la possibilità di fare un po quello che voglio da questo punto di vista per cui posso veramente scegliere il range d'età poi facebook mi restituirà una visualizzazione suddivisa per fasce d'età vedete 35 44 45 54 ma è comunque ci permette facebook di prendere le l'età d'accordo e poi viene la cosa molto molto interessante io posso andare a definire tutta la serie di interessi che questa persona ha manifestato su facebook io l'ho già fatto prima questo lavoro ok voi chiaramente dovrete adattarlo al vostro business alla vostra situazione però e al vostro avatar però è la cosa molto interessante è esattamente questa cioè posso andare a pescare in quello che è tutto il database immenso di facebook per sfruttarlo a favore mio ok per sfruttarlo nell'analizzare le abitudini gli interessi i punti di dolore posso veramente scavare all'interno di questo pubblico ok prima ancora ragazzi di aver attivato la mia prima campagna ok questa cosa la posso fare veramente a monte prima ancora di aver speso un singolo euro di 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 sponsorizzate su facebook per uno specifico progetto ok e qui posso veramente andare quindi a me interessava in questo caso andare a intercettare persone che fossero indipendentemente uomini o donne che vivessero a milano in provincia che fossero interessati a cucina italiana ho aggiunto degli interessi l'ho fatto un po' frettolosamente questo lavoro ma mi interessava semplicemente farvi capire il concetto ok quindi cucina ad alta qualità pesce perché comunque quello che dobbiamo andare a vendere in questo momento sono ricette homemade di pesce ok quindi diventa chef per una sera a casa tua cucinando piatti di piatti di pesce a livello ristorante stellato per intenderci ok quindi mi interessa identificare persone attente al mondo del take away o del home delivery quindi di fatto vado a profilare sempre di più e ancora ragazzi posso andare a qui vedete io adesso ne ho selezionati solo una parte di questi di queste di queste potenzialità che ho qua in questo momento ma posso andarmi a prendere di tutto nel senso che vedete posso andare a prendere connessioni con pagine mie posso andare a prendere la lingua in questione nel nostro caso potrebbe essere interessante mostrare queste alz solo a chi parla la lingua italiana o chi comunque ha la lingua italiana impostata sul proprio sul proprio dispositivo perché perché banalmente le mie alz le faccio solo in italiano perché l'inglese non lo so ipotizziamo questo discorso ok quindi posso andare veramente ad impostare tutta una serie di elementi che mi permettono di avere in prima battuta che non è trascurabile come dato la dimensione di questo pubblico e voi direte bene e quindi che me ne faccio in realtà possiamo andare un passo avanti ancora perché facebook mi permette una volta identificato il mio pubblico di andare a vedere queste 350 mila persone 400 mila persone a milano a che cosa statisticamente di più hanno messo mi piace su facebook quindi che pagine seguono che interessi hanno e vedete qui ragazzi ce n'è veramente da perderci la giornata a voler indagare a fondo tutto il 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 report che ci può restituire l'audience insight in questo senso qui però capite bene senza che perché che adesso andiamo oltre capite bene la potenzialità che può avere uno strumento di questa portata nel fare un'analisi nell'applicare l'analisi demografica che abbiamo fatto e nell'andare ad approfondirla ok quindi segnatevi il nome audience insights strumento eccezionale a parer mio d'accordo per andare a definire tutti questi parametri qui e adesso solo adesso ci spostiamo nell'analisi psicografica intanto ragazzi se avete domande o se avete cose intanto vedo gualtiero ciao guardi buongiorno ciao andrea ok perfetto vedo un po di commenti che si stanno aggiungendo dicevamo passiamo all'analisi psicografica perché perché una volta che noi abbiamo definito il nostro pubblico a livello demografico ok abbiamo un problema nel senso che comunque raggiungere queste persone basandoci su criteri esclusivamente o quasi esclusivamente demografici ci sottopone a il rischio di andare ad escludere buona parte della nostra potenziale audience perché vi ricordate sul mio audience insight di prima ritorniamo qui vi ho impostato questa fascia d'età 30 55 d'accordo ma chi me lo dice che veramente il servizio di on delivery del pesce da cucinare come uno chef non possa essere interessante per una persona leggermente più giovane o leggermente più anziana nessuno me lo dice d'accordo per questo andare ad utilizzare questi parametri per lavorare in fase iniziale su facebook nel costruire le nostre sponsorizzate è potenzialmente pericoloso perché ci lasciamo a livello potenziale sempre ci disperdiamo ci perdiamo una fetta di potenziale pubblico e da qui ci viene in aiuto l'analisi psicografica del target perché vi dico questo perché se noi non portiamo i termini delle nostre ansa in termini di sei un uomo di 35 anni che vive a milano e vuoi mangiare il pesce se non la portiamo in questi termini ma focalizziamo il nostro copy delle nostre inserzioni sui problemi che la persona potrebbe avere nel tentare di cucinare pesce a casa sua autonomamente. A quel punto, se io mi concentro su questo discorso qui e sul perché la gente non cucina pesce a casa e se lo fa perché ha dei problemi e se li ha quali sono, ok? Se io vado a concentrare il copy delle mie inserzioni su questa tipologia di angolo e quindi parlo del problema del mio cliente ideale, a quel punto potrò attrarre indipendentemente, quindi lasciando un filtro molto blando in termini di profilazione su facebook, potrò andare ad attrarre tutte quelle persone che sono veramente interessate al nostro prodotto o al nostro servizio o in questo caso ad entrambe le situazioni, ok? E voi mi direte, bene, e come si fa? Perfetto, questo qui, forse l'avete già visto qua sopra, ci viene in aiuto un altro strumento che io reputo fantastico. Per la lingua italiana a volte zoppica un pochino, per la lingua inglese è molto meglio. Siamo stati fortunati perché il tema del cucinare pesce è molto interessante, nel senso che è molto ben trattato su questo sito. Il sito si chiama answerdepublic, answerdepublic.com, ok? Perché è molto figo questo strumento? Perché ci permette di introdurre delle parole chiave, ok? Quindi io adesso ho scelto questa perché mi interessa ragionare su quali siano i potenziali problemi che incontra chi deve cucinare pesce, ok? Quindi, banalissimo, cucinare pesce, ok? Andiamo a vedere un attimino che risultati ci restituisce questa analisi qui, ok? Ci restituisce che cosa? Vedete, è molto bello perché ce lo distribuisce, vedete, per categorie, ok? Nello specifico, se io volessi capire quali sono i problemi che cucina pesce, posso immaginare che in una ricerca di Google potrebbero andare a googlare, non lo so, cucinare pesce senza fare puzza in casa, perché magari c'è gente che non cucina il pesce perché gli resta sempre un cattivo odore in casa, ok? Quindi, vedete, posso andarmi a cercare la preposizione, vediamo cosa c'è qui, eccoci qui, perfetto, eccoci qui, cucinare il pesce senza, cucinare il pesce senza, leggiamo che cosa sono i risultati, senza grassi, può essere un angolo d'attacco per i nostri copi? Decisamente sì. Come cucinare il pesce senza accendere il forno, cucinare il pesce senza aglio, cucinare il pesce senza far puzza, cucinare il pesce senza spine, vedete, ragazzi, che cosa sono tutti questi senza se non dei punti di dolore che il pubblico ha? Avete capito il potenziale di questa cosa qui? Se andate a scorrere lungo questa pagina qui, attenzione che nel free trial di Answer the Public vi permette solo un tot di ricerche per giorno, quindi di fatto se superate, mi sembra, le cinque ricerche per giorno non vi permette di andare oltre, quindi se iniziate a pasticciare, contenete presente questo aspetto qui. Vado, come dire, a farmi una fotografia che, ragazzi, ce n'è qui da guardare, ce n'è qui da leggere, sto scorrendo ancora come cucinare il pesce, con cosa cucinare il pesce, ok? E queste qui ce li suddivide poi per in ordine alfabetico tendenzialmente. Quindi nell'analizzare questo aspetto qui, delle sfide e punti di dolore del nostro potenziale cliente, questo qui è uno strumento che vi consiglio decisamente di provare. Secondo step. Secondo step. Quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere il nostro potenziale cliente? Qual è la meta che vuole raggiungere? Quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere? Teniamolo sempre presente questo discorso perché, ve lo dico, perché tante volte quando ci focalizziamo sul nostro prodotto e sul nostro servizio, che è bravo, che è bello, che è stupendo, che siamo i migliori sul mercato, che siamo i più attivi, attivi da 500 anni sulla provincia di Milano. Nel momento in cui ci concentriamo su di noi, ragazzi, perdiamo di vista il fatto che non siamo noi l'obiettivo del nostro cliente, noi siamo soltanto lo strumento che accompagna il cliente verso l'obiettivo, d'accordo? Vi faccio un altro esempio, adesso mi stacco dal discorso del cucinare il pesce a Milano e vi faccio un altro esempio di un'altra azienda reale che esiste, che c'è, ora non lo so se Elena sia qui con noi in questo momento, ma l'azienda di che cosa si occupa? Di restauro di serramenti. Di fatto che cosa fa questa azienda? Anziché sostituire i tuoi serramenti, viene a casa tua, ti prende i tuoi serramenti, li restaura, li rende più belli dei nuovi, sostituisce il vetro nel mezzo dei due serramenti, mette un vetro termico, ti dà una resa di efficientamento energetico in casa che è eccezionale tutto questo lavoro, mantenendo il tuo vecchio serramento con tutta la qualità che potrebbe avere il vecchio legno vecchio, insomma tutta una serie di elementi molto interessanti. Qual è l'obiettivo del target di Elena in questo caso specifico? È restaurare i serramenti? Difficilmente, è solo un mezzo il restaurare il serramento, è un mezzo per arrivare dove? Per arrivare dove? È esattamente quello a cui noi dobbiamo tendere nell'andare a sviluppare l'analisi psicografica del nostro target. Come si fa? Un piccolo aiuto è il gioco, è un giochino, consiste nel chiederci per cinque volte perché? Quindi contiamo perché, scusate che mi sono messo due appunti, perché questa persona vuole restaurare o vuole cambiare i serramenti? Perché sono vecchi? Perché sono vecchi e non gli piacciono più. Ok, perché vuole avere serramenti più belli? Perché vuole dare una nuova vita alla casa e vuole averla più in ordine. Va bene. Vedete che stiamo scavando. E perché vuole rinnovare la casa? Perché? Perché durante questa quarantena ha trascorso molto tempo in casa e gli piacerebbe che fosse più curata. E perché vorrebbe la casa più curata? Vedete cosa sto facendo? Sto insistendo, è forzata la cosa. Sì, è vero, è forzata. Ma questo ci costringe ad andare sempre un po' più avanti nel lavorare sulle razioni profonde che ci stanno dietro al banale, che banale non è, ma al banale restauro del serramento. Ok? E perché vuole vedere la casa curata? Perché è stufo di vederla trasandata e adesso che per un po' di tempo non si potrà più andare a cena fuori nei ristoranti, probabilmente gli amici verranno a cena a casa. E perché? E qui siamo all'ultimo. Vedete che si può andare avanti, ragazzi, come i bambini. Potremmo andare avanti a chiedere perché? Per tutto il pomeriggio. E perché è importante una casa curata quando vengono gli amici? Per fare bella figura. Ok? Vedete che scavando in questa maniera qui capiamo che l'obiettivo ultimo che il nostro cliente vuole andare a raggiungere non è restaurare il serramento, ma è avere una casa più bella per fare bella figura con gli amici quando verranno a casa. Ho banalizzato il processo, ok? Non è veramente questo il processo del caso in esame, però era per darvi un'idea del meccanismo, ok? E di quanto il chiederci perché ci aiuti in questa direzione qui, ok? Ve lo siete mai chiesto il perché in questo modo qui? Lo avete mai fatto questo lavoro sul vostro prodotto e servizio? Se così non fossi io vi invito a farlo, ma anche come gioco, come esperimento lato proprio di sperimentazione per apprendere un metodo. Provateci, ne vale la pena perché aiuta moltissimo in questi termini. Quindi abbiamo identificato quali sono i problemi, abbiamo identificato quali sono gli obiettivi, quelli veri, non quelli che pensiamo noi da imprenditori che vogliamo vendere il nostro prodotto. Ora ci resta da capire se questa persona ha degli obiettivi da raggiungere e ha dei problemi da risolvere, per quale motivo non ha fatto né l'uno né l'altro fino adesso? Perché sta ancora all'interno di questo limbo che di fatto non è né carne né pesce in questo senso qui? Quali sono gli ostacoli che questa persona ha incontrato fino adesso? Che cosa crede? Quali sono le obiezioni che potrebbe fare nel momento in cui si trova di fronte al pensiero di dover risolvere questo problema o di andare verso quel obiettivo che vuole raggiungere? A quel punto, ragazzi, vi si apre un mondo. Perché? Perché cucinare il pesce è difficile, perché cucinare il pesce ci vuole troppo tempo, perché ristrutturare i serramenti, vabbè ma sono troppo vecchi i miei, non è che si può fare niente, non saranno mai buoni come quelli nuovi, ok? Queste ragazzi sono tutte false credenze, sono tutte obiezioni che voi tutti i santi giorni quando parlate con un cliente al telefono o vis-à-vis sono le classiche obiezioni che vi fanno i clienti, normalmente le classiche domande che vi fanno i clienti. Quindi queste cose qui io sono sicuro che ognuno per il proprio business ne potrebbe in un quarto d'ora ne potrebbe riempire un foglio intero di questi elementi qui, ok? Perché è importante fare questa analisi a livello preliminare? Perché a questo punto l'obiezione è, va bene, ok, ma io ho degli ostacoli e delle obiezioni che mi potrebbe fare la persona, me ne occuperò quando le avrò al telefono in fase di call commerciale, perché è un'obiezione che viene fatta questa. Ma vi voglio chiedere, non sarebbe meglio analizzarle in principio queste credenze, queste obiezioni limitanti e smontarle e farle smontare già dal marketing a queste cose in fase iniziale. Sai quanto lavora in meno poi a livello commerciale dovrebbero gestire le persone, i nostri venditori, in questo caso qui? E soprattutto se noi sappiamo già quali potenzialmente potrebbero essere i problemi da questo punto di vista, quindi i problemi e le credenze nei confronti delle quali ci scontreremo, possiamo predisporre del materiale informativo a supporto come l'Edit Magnet in fase già iniziale del nostro funnel per smontare queste cose qui, in realtà far vedere quanto è poco vero, è falso, il fatto che per fare del pesce di ottima qualità con una ricetta pazzesca è falso pensare che serva troppo tempo, perché si può fare senza spendere più di 20 minuti. Ok, questo io se lo analizzo in principio, posso smontarlo in principio e in principio mi posso muovere per far sì che queste obiezioni non mi si presentino di fronte nel momento in cui il mio leader entrerà in contatto con me, entrerà nel mio funnel, nella mia macchina commerciale e arriverà presumibilmente prima o poi a parlare con il nostro commerciale, ok? Quindi chi prima, chi poi. Quindi occhio su questo discorso qui, d'accordo. Se avete domande nei commenti, io vi seguo. Quali sono le maggiori domande che si pone questa persona? Altro elemento utile da tenere presente nel momento in cui facciamo questa analisi qui e ragazzi il nostro eccezionale answer the public da questo punto di vista è un pozzo senza fondo. Quelle domande si pone la gente. Come si cucina il pesce spada? Come si cucina il pesce persico? Come si cucina il pesce sul gelato? Come si cucina? Oppure cosa cucinare? C'è una pesce? Cosa cucinare con pesce? Cosa cucinare di pesce veloce? Che domande si pone la gente? Capite bene quanta roba possiamo andarci a pescare da questa semplicissima schermata? Ah, answer the public vi permette anche di salvare il png. Quindi vi tirate giù questo screen qua che vedete qui. Si può salvare e portarvelo sul vostro desktop. Eccezionale questo discorso. Quindi che domande si pone il nostro amico? E quindi abbiamo una quantità veramente veramente indefinita. Ok, perfetto. E che cosa potrebbe aiutarlo ad ottenere i risultati a cui ambisce? Perché vi dicevo prima, a livello di obiettivi che vuole raggiungere il nostro target, una volta che abbiamo fatto il nostro giochino dei cinque, perché? E abbiamo scavato un pochino nella testa di questa persona. E una volta che abbiamo analizzato le credenze e le obiezioni limitanti, come possiamo noi aiutarlo? Che mezzi possiamo fornire noi alla persona in questione per raggiungere veramente la sua meta? E anche qui ci si apre un mondo perché banalmente la persona che ambisce a restaurare il serramento non è vero perché ambisce a fare bella figura con gli amici, ok? Potremmo dargli uno strumento per, e qui lascio in sospeso la domanda, veramente ci si apre un mondo intero legato a questo discorso qui, ok? Che potenzialmente ci apre anche una moltitudine d'angoli di approccio al nostro, alla nostra audience illimitata, molto 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 ampia da questo punto di vista. E come vi dicevo prima, due ve li ho fatti vedere, ce ne sono molti altri strumenti per poter fare queste cose qui, banalmente il keyword planner di Google, i nostri sondaggi, i questionari che possiamo fare al nostro pubblico, ok? Possiamo creare degli ask panel che permettano un pochino di comprendere meglio il nostro pubblico, possiamo, vabbè, ricercare evidentemente su web e possiamo, non da ultimo, o perlomeno l'ho lasciato in ultima perché mi porta alla slide dopo, possiamo permettere che i nostri clienti si autoprofilino, si autodichiarino interessati a ciò che noi abbiamo dato loro come materiale da fruire, ok? Vi ricordate che vi dicevo in principio, in questa fase può essere molto interessante creare delle campagne Facebook che non abbiano una profilazione eccessivamente marcata, ok? Quindi l'audience insight che vi ho mostrato prima si può utilizzare tranquillamente per studiare il pubblico, ma poi non andiamo a a salvarci col pubblico e a spararvi le sponsorizzate, ma le nostre sponsorizzate che saranno basate su, e torno indietro scusate, sui problemi, sugli obiettivi, sugli ostacoli, sulle maggiori domande che questa persona si pone, su gli strumenti che potrebbero aiutarlo, quindi quale tool ti potrebbe essere utile per fare una determinata azione, ok? Quindi di fatto gli diamo delle informazioni che potrebbero aiutarlo a raggiungere il proprio obiettivo e ne creiamo del contenuto, ne creiamo del contenuto video, ne creiamo del contenuto audio, ne creiamo degli articoli, ne creiamo, ne creiamo, ok? Del materiale. Perché? Ma è quasi scontato a questo punto, perché, e poi il nostro Yari in tutti i suoi webinar con questo discorso lo rende molto chiaro tutte le volte, perché se io in questo momento vi ho riportato tre esempi, quindi vedete qui davanti a me, se io mi trovo nel feed delle notizie Facebook, finché cazzeggio, perché quello è quello che si fa su Facebook tante volte, trovo un articolo che mi interessa, ok? Ci clicco, arrivo sul blog, in cui arriviamo sul blog, esempio di fan del company, sono un imprenditore, sono confuso sul mio marketing e c'è un bel articolo che mi tratta tutto questo argomento. Io sul mio blog, che cos'ho? Ho il pixel di Facebook che traccia tutti coloro che ci arrivano su quell'articolo lì, ok? Quindi posso crearmene un pubblico? Certo che posso farlo, posso creare un pubblico personalizzato di persone che hanno visitato quella specifica pagina di blog e posso identificare qual è lo specifico problema o qual è lo specifico obiettivo che tocca veramente nelle corte il nostro potenziale cliente. Posso crearne un video? Certo che posso crearne un video, perché nel momento in cui io faccio un video di approfondimento sulle dieci ricette da poter realizzare in meno di venti minuti per realizzare il pesce, per cucinare un pesce livello chef stellato in casa tua, in meno di venti minuti, nel momento in cui io creo questo video lo mando in pasto a una campagna di awareness che me lo fa circolare sui social, potrò andarmi a creare un pubblico di persone che hanno visto per il 95% quella tipologia di video lì e quindi l'interesse è molto 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 elevato nei confronti di quello specifico tema. Adesso ragazzi, io vi ho fatto un po' di esempi sparsi, ne ho cercati di tenere solo due per non fare troppo casino. È chiaro che poi ogni singola situazione ha le proprie particolarità e ha le proprie specificità. è scontato, d'accordo? Quello che è vero è che questa tipologia di template, di approccio, ci aiuta sempre veramente a fare un'analisi efficace da questo punto di vista. Ok, bravissima, ok. Ok, vedo che c'è già l'Anto che mi sta rispondendo alle domande del pubblico. Grande Anto, perfetto. Allora, intanto io, scusate, do un'occhiata ai commenti che mi avete scritto qui. Perfetto, grande Nicola, so cosa fare nel weekend. Ecco, Loris, bravo, bravo. Mi raccomando, adesso tu spegni WhatsApp e ti chiudi davanti al computer fino a lunedì mattina. Ok, Francesca ti ha già risposto l'Antonella, si chiama answer the public.com, lo strumento che ti ho fatto vedere oggi. Fatemi vedere se c'è qualche strumento. Allora, come posso importare contatti già profilati? Bella domanda questa qui, molto bella. Beh, banalmente se tu avessi un listato di clienti, quindi disponi già di una lista, ipotizziamo, di persone suddivise per prodotti che hanno acquistato. Ora io non ho in mente il caso specifico, ok? Anche perché da qui non riesco a vedere il tuo nome e quindi non riesco a... Magari ci conosciamo ma non ti so rispondere nel tuo specifico caso. posso andare a importare una lista di... un listato di clienti già fatto, già profilato? Posso da quello poi crearmene un pubblico su Facebook, d'accordo? una custom audience specifica sulla lista di clienti. Chiaro che è necessario che tu abbia l'autorizzazione per poter usare questi clienti, questi dati di questi clienti in conformità a tutte le normative. Per la privacy è tutto quel discorso lì che è sempre molto molto delicato. Vediamo un pochino... Al momento giusto sto facendo proprio il copy. Oh, sono contento. Bene, bene, siamo arrivati giusti. Perfetto. Hai già una lista? Ecco, hai già una lista. Tira dentro il tuo... la tua lista. Ora, la tua lista è segmentata, la tua lista è... o è sparsa, nel senso è caotica o è già segmentata per decisioni da cui si è effettuata in passato da parte dei tuoi utenti, è già segmentata per livelli di approccio alla tua realtà, quindi è già suddivisa una lista creata in fase di awareness, una lista creata in fase di coinvolgimento. Bisogna proprio analizzare un po' tutti i singoli casi, ecco, da questo punto di vista. In questo senso qui, ragazzi, se sentite l'esigenza di, come dire, approfondire il vostro caso specifico, perché questi qui sono dei template che io vi ho dato, sono dei modelli, ok, ma poi vanno carati. Vi ricordo che qua sopra vi ho messo il link e vediamo se riesco, perché me lo dimentico sempre, ma stavolta ce la faccio. Ah, eccolo qui. Abbiamo la possibilità, abbiamo due opzioni per voi. Uno, abbiamo una consulenza gratuita a disposizione di chi volesse approfondire, iniziare ad approfondire tutti questi argomenti, parlare con uno dei nostri consulenti e il link è qua sopra. Basta compilare, sono super operativi, quindi di fatto vi daranno un riscontro in brevissimo tempo. L'alternativa, invece, se volete continuare ad approfondire a livello autonomo questi argomenti qui, io vi consiglio caldamente di iscrivervi al Funnel Marketing Club. Sempre qua sopra trovate il link, il free trial, 14 giorni, come Netflix, ok? Solo che ci si rilassa un po' meno con il nostro Funnel Marketing Club, perché c'è un sacco di roba, un sacco di contenuti di valore, quindi bisogna studiare. Se pensavate alle serie TV, non è quello il discorso. Un sacco di contenuti di approfondimento, ok? Quindi, veramente, si spazia su tutto lo scibile del marketing da quel punto di vista. Quindi, veramente, io ve lo consiglio, anche proprio a livello di trial, di provare a farlo a prescindere. Nel frattempo, ragazzi miei, io ci sono ancora, se ci sono qualche domande. Se ci sono altre domande. Posso importare una lista contatti da MailChimp? Per come, dove si mette la lista e dove si inserisce in pratica? Ok, chiara la domanda. Business manager di Facebook, ok? In alto a sinistra hai il bottone gestione inserzioni. Lì va nella sezione dedicata al pubblico. Poco più in basso, sulla sinistra, ve lo schermo. Ora non vado in condivisione perché ci vorrebbe un po' più di tempo. Ma al centro della pagina, a sinistra, trovi un bottone con scritto crea pubblico. Lì puoi creare un pubblico personalizzato. Pubblico personalizzato. Che dovrai scegliere, poi, nella tabella che ti si apre, nel pop-up che ti si apre, dovrai scegliere da lista clienti. O una voce simile, ora non la ricordo con precisione la dicitura, però la capisci. E quindi da lì, praticamente, puoi andare ad importare il tuo file in Excel, il tuo file in CSV, contenente tutte le informazioni dei tuoi clienti. Mi raccomando, quando fate questa operazione, è utile anche importare il numero di telefono, se ce l'avete, e se lo potete utilizzare a fini marketing, ovviamente. È interessante perché Facebook potrebbe poterlo utilizzare per individuare quella persona se si è iscritta a Facebook, ovviamente utilizzando il numero di cellulare, ecco. Ciao Nicola, la lista perché è un pubblico simile. Per essere attendibile, quanti contatti dovrebbe avere più o meno? Ok, qui ragazzi scegliamo un po' nel dettaglio legato a Facebook. Adesso ti rispondo, non è questo però il contesto, nel senso che poi vi rimando tutti dagli aria alla prossima diretta, ammazzatelo di domande. Un pubblico simile lo puoi creare, considera che non hai certezza che tutta la tua lista sia stata costruita con indirizzi mail che corrispondono allo stesso indirizzo mail con cui la gente si è iscritta su Facebook. Ok, quindi non è scontato che Facebook nel momento in cui gli diamo in pasto una lista trovi tutti i contatti, quindi ipotizziamo mille contatti, non troverà mille persone su Facebook è impossibile, li trovi tutti, d'accordo? E quindi di fatto dobbiamo prevedere un vaccino abbastanza ampio. Io ti direi comincia a lavorare con i Luca Like, con i pubblici simili sugli stati che partono da 500 o 1000 indirizzi però prenderò veramente come un dato abbastanza campato per aria perché proprio dipende tantissimo da tipologia di lista. Non lo so, una lista che tu hai per le mani a livello aziendale quindi hai una lista di contatti, di persone che, quindi magari tu sei un B2B e persone che di fatto ti scrivono, scusa, sì un B2B persone che ti scrivono dalla mail del lavoro, dalla mail aziendale non sarà mai la mail con cui sono iscritti su Facebook, è impossibile e quindi in quel caso anche 5000 indirizzi rischia che siano pochi se Facebook non li trova quindi veramente è da tenere presente e chiaramente da lì in poi bisogna da quel pubblico che vai a creare bisogna poi tirarne fuori il pubblico simile chiaramente più persone, più è ampio il pubblico di partenza più Facebook ha elementi per crearti una Luca Like veramente specifica ecco, precisa, il più precisa possibile. Va bene ragazzi, io sono stato contentissimo di aver passato questa oretta poco o meno di oretta qua con voi io vi saluto, vi ricordo ancora qua sopra i due link, sfruttateli perché ne vale veramente la pena basta, per i prossimi appuntamenti avete il calendario se ci sono domande, anche chi mi guarderà in differita se nascessero domande, mettiamole pure sotto qui nei commenti che poi i prossimi giorni passo e rispondo volentieri a tutti va bene? Ciao ragazzi, grazie della compagnia e buona, buon fine settimana a questo punto perché manca poco ciao ragazzi, ciao ciao